Sequestrati beni per oltre 150.000 euro dalla Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di una società di capitali con sede a Valdanio e ad una coppia di Cornedo Vicentino, oggi indagata per il reato di dichiarazione fraudolenta, mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Arriva così a compimento l'operazione Effetto Dominus, indagine avviata nel 2016 dalla tenenza di Schio, che aveva permesso di rilevare condotte fraudolente ai danni del fisco negli interventi di realizzazione e vendita di immobili facenti parte del piano di lottizzazione La Favorita, complesso di una novantina di unità immobiliari a Valdanio. I finanzieri hanno potuto appurare che l'impresa aveva commissionato l'esecuzione dei lavori ad altre tre società di capitali, due di Valdanio e una di Verona, formalmente terze ma di fatto sovrapponibili ai stessi assetti proprietari e interessi economici e riconducibili alla coppia di Cornedo. Sette i conti correnti sottoposti a vincolo, quote di quattro imprese societarie e beni immobili, comprese una villa di pregio, una piscina a Cornedo e due fabbricati inesistenti.